L'omicidio di Giulia Cecchettino è nella sua enorme tragicità uno spartiacque nel quotidiano e continuo impegno richiesto alle istituzioni della Repubblica per combattere la deriva culturale che è alla base della crescita di quel cancro sociale che è la violenza sulle donne. E così si propongono immagini in diversi istituti, diversi giovani, proprio sulle parole dell'assessore delle politiche sociali Alessandra Cianflone e che proprio protagonista di questa giornata è stata il minuto di rumore. Si è la sensazione che questo omicidio abbia scosso come mai in precedenza le nostre coscienze pericolosamente a sue fatte e rassegnate alla piaga dei femminicidi. Tutti, singole istituzioni, siamo chiamati a rispondere a questa nuova fase del percorso di lotto contro la violenza di genere, attivando nuovi strumenti capaci di mettere a nudo ognuno di noi di fronte alla responsabilità collettiva che genera un femminicidio che non dobbiamo mai più rileggere a una questione di responsabilità personale. Ci sarà modo di riflettere a lungo su tutto questo. Ci sarà tempo per approfondire, discutere, confrontarsi e anche imparare. Ci sarà tempo per convegni, dibattiti e incontri. Proprio nella giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne non è uguale alle altre perché ci chiama ad una presa di coscienza che forse fino ad oggi non c'è mai stata, affogata da dibattiti, incontri e iniziative che probabilmente abbiamo fatto scadere in una routine che toglie la lotta contro la violenza sulle donne, il pathos da cui nasce la rabbia per lottare con più forza. Oggi abbiamo voluto rappresentare la giornata internazionale contro la violenza sulle donne. È stata una giornata molto impegnativa da organizzare, abbiamo creato molti cartelloni.